I bambini sono loro che subiscono maggiormente gli effetti della crisi mondiale, sono tanti piccoli malnutriti, spesso affamati. Milioni di persone muoiono ogni giorno perché non hanno da mangiare. Alla base c'è la mancanza di risorse primarie, ma è più corretto parlare di maldistribuzione da parte dei governi e mercati globali, perché l'accesso al cibo è un diritto di tutti. Se ne è parlato durante l'incontro Ripensare Agricoltura e Ambiente per un futuro senza fame, organizzato dall'associazione Green Accord Onlus. I numeri sono allarmanti, lo denuncia la FAO. La lotta alla fame e alla malnutrizione si combatte con i piccoli gesti, evitando gli sprechi. Presente anche il sindaco di Napoli, Tommaso Sodano. Quest'anno abbiamo scelto insieme a Green Accord il tema dell'alimentazione, del rapporto dell'alimentazione e il tema della fame e con le conseguenze legate ai cambiamenti climatici e alcune scelte che le multinazionali hanno fatto sul tema delle produzioni alimentari con conseguenze tragiche e con una fame nel mondo che continua a non essere domata. Il grido d'allarme arriva anche da Papa Francesco. La forbice tra ricchi e poveri si allarga sempre di più e l'obiettivo è quello di ridurre le differenze ridistribuendo in maniera equa le risorse della terra. Alfonso Cauteruccio, presidente Green Accord. Ci sono organizzazioni internazionali, dalla FAO al Programma Alimentare Mondiale, poi la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale che stanno già combattendo per fare in modo che la fame nel mondo possa essere totalmente debellata. C'è un problema secondario che è la malnutrizione secondaria, tra virgolette, nel senso che è anch'esso un grande problema, che è di più facile approccio perché si tratta di migliorare soprattutto la qualità di quanto hanno a disposizione, soprattutto l'acqua che spesso non è potabile. Se si vive come una sola famiglia umana c'è cibo per tutti e la famiglia della Caritas ogni giorno restituisce speranza e dignità donando un piatto caldo. Ecco la testimonianza di Don Tonino Palmise. Noi abbiamo con le nostre menze nella diocese di Napoli oltre 1.400 pasti che vengono distribuiti ogni giorno tra il pranzo e la cena e ci siamo accorti, ci rendiamo conto che addirittura ci sono persone che non si fingono ma che vogliono essere volontari e che nel fare i volontari possono accedere anche al pasto. Un dato sconfortante e terribile e seguente secondo me è che ci sono tanti uomini e donne che fino a pochi anni fa ci aiutavano, oggi sono le persone che ci chiedono aiuto.